Buongiorno, rassegna stampa di domenica 17 luglio, oggi sui giornali non c'è granché, nel senso che ci sono tutte quante le storie, i commenti che già in una certa misura avevamo fatto e avevamo sentito nei giorni scorsi. Ovviamente i due casi fondamentali restano quelli della settimana scorsa, anzi tre casi fondamentali, Nizza, Turchia-Ancara e la questione di Andria. Così funzionano le notizie. Il primo giorno sembrano clamorose, il secondo giorno diventano masticate e il terzo giorno finiscono a pagina 20 come i funerali di Andria di cui interessa poco a pochi. In realtà poi le cose sono importanti ugualmente anche se passano i giorni. Va bene, che vi posso dire? Oggi sono un po' annoiato a leggere i giornali, non c'è la granché, forse la domenica, forse il luglio, ma il giornale più divertente oggi sono i giornali di destra e il Fatto Cotidiano, cioè quelli che hanno il coraggio di dire che adesso diventiamo tutti quanti filo Erdogan, che fino a un mese fa, fino a due mesi fa, fino a prima del golpe, Erdogan era quello che massacrava i ragazzi, metteva 35 giornalisti in carcere, sul quale viveva il dissenso, il dissenso non era tollerato, era il dittatore. Poi dopo quando arrivano i militari, che vi ricordano gli anni 70, il golpe, gli anni 80 di Pinochet, gli anni 70 di Pinochet, eccetera, allora a quel punto Erdogan ritorna bravo, buono e santo e su questo giocano ovviamente tutti quanti i giornali di opposizione, dal centro-destra ovviamente non si capisce perché, perché non è un'opposizione a Renzi, questa è un'opposizione diciamo alle cose come vanno in Europa. Oggi interessante ovviamente il giornale su questo, che è molto approfondito, su questa linea, vi segnalo il pezzo di fiamma Nierstein, che è il fondo del giornale, su uno dei lati fondamentali di questo rischio Erdogan, perché ritornando dopo il golpe la deriva islamista, dice fiamma Nierstein, potrebbe anche essere superiore rispetto al passato. Che ci sia una tendenza islamista da parte di Erdogan ci sono pochi dubbi, il fatto che questo possa diventare ancora superiore al passato, oggi molti osservatori lo dicono Fiamma Nierstein, lo dice nel modo più chiaro. Ancora sul giornale oggi, lo dicono anche altri giornali, ma oggi Michael Essin lo fa meglio degli altri, l'assurdo comportamento degli americani e di Obama che sono stati velocissimi e svelti nel far fuori Saddam, sono stati velocissimi e svelti nell'appoggiare il golpe contro Gheddafi da parte dei francesi e anche contro Mubarak, dei geni, dice Michael Essin, sono riusciti a creare un casino pazzesco nel mondo e invece in questa vicenda di Erdogan sono stati la causa del fallito golpe, questo sostiene Michael Essin, ma non soltanto lui, il fatto che ci sia stata una dichiarazione di Kerry, il vicepresidente della Repubblica americana, che subito ha detto che bisognava tenere in piedi la democrazia in Turchia, faceva copiere come il golpe non avesse l'appoggio americano. Cosa più o meno simile, terzo pezzo che vi segnalo dal giornale, ma come lo sapete io sono abbastanza indipendente anche se faccio il vice direttore del giornale, quando ci vuole ci vuole, oggi il giornale è più divertente rispetto agli altri giornali che fanno i loro pallosi commenti. L'intervista fatta da Annalisa Chirico a Lutva, che è molto divertente, sul giornale dice, ma ragazzi quando mai si è visto un golpe senza ammazzare il presidente che deve essere deposto, nella fattispecie Erdogan, dice questo è stato il primo grande errore da parte dei golpisti, oppure era un golpe da farsa, ci piace che venga ammazzata una persona? Certamente no, ma Lutva lo dice in maniera scientifica, come possiamo dire, come autore di un libro sui golpe, è come uno di quelli che diceva a marzo dell'anno scorso che il golpe in Turchia poteva arrivare. L'altra grande attrice di questo golpe fallito è certamente la signora Merkel, che ha dato un grande appoggio a Erdogan, anche perché è la scommessa, mi sembra di averlo letto sulla Repubblica, in questo caso sul Corriere, la scommessa della Merkel è quella che il suo alleato, cioè il suo alleato turco, quello a cui ha fatto sì che arrivassero 3 miliardi di finanziamento per tenere i profughi tra Siria e Turchia lì e non fanno arrivare in Europa, che questo grande alleato della Merkel riesca a resistere nel suo seggio, nel suo dominio. Quindi la Merkel è una di quelle che ha scommesso molto su Erdogan, anche se poi ha fatto finta, dice il pezzo del Corriere della Sera, tante volte di contestarlo sulle questioni per cui in pubblico si deve contestare Erdogan, cioè sulla questione dei giornalisti, della libertà di stampa e delle opposizioni. Quindi insomma Merkel, altro grande fenomeno della politica internazionale, che noi vediamo sempre con grande rispetto, ma mi sembra che su questa vicenda, dice il Corriere, la Merkel abbia avuto un atteggiamento, se non altro equivoco, per il fatto che su Erdogan ha costruito parte della sua credibilità. Ma insomma, se la Merkel dice venite tutti qua ai profughi siriani, facendo quello spottone, vi ricorderete sei mesi fa, alla stazione di Monaco con i treni che arrivavano i siriani, benvenuti tutti i siriani da noi, poi dall'altra fa pagare l'Unione Europea 3 miliardi di euro perché i siriani non vengano in Europa, le due cose qualcuno potrebbe dire. Scusi Merkel, ma è lei veramente la statista dell'Europa? Magari qualcuno ha un dubbio su questo, se lo potrebbe fare. Oggi i giornali iniziano a farselo sulla questione Erdogan, altro grande errore della politica estera tedesca e di Obama. Nizza. Beh, e su Nizza oggi si scopre quello che noi modestamente abbiamo scoperto due giorni fa, e cioè che non è, come dice Gad Lerner, un pazzo alla guida di un tir che uccide 84 persone e ne ferisce altrettante. Non si tratta di uno squilibrato, non si tratta soltanto di uno che è stato mogliato dalla moglie, perché sennò tanti squilibrati, tanti mollati dalla moglie e tanti pazzi farebbero stragi simili tutti i giorni nelle nostre città. Non si tratta di questo. E oggi è certificato da tutte le testimonianze che riguardano le investigazioni sul pazzo, che pazzo resta, che ha ucciso 84 persone sulla promenade di Nizza, il quale aveva contatti con affiliatori dell'Isis che lo considerano un loro soldato. Oggi un giornale, il Corriere della Repubblica, fa notare che non sempre l'Isis fa comunicati dicendo quello è il nostro soldato, perché vi deve essere una compatibilità ideologica. Nei confronti di questo l'Isis ha trovato una compatibilità ideologica, la stessa che non ha trovato per esempio per il massacro di Charlie Hebdo, che non è stato considerato fatto dall'Isis, ma da fronti vicini ad Al-Qaeda. Non voglio entrare nel merito di queste distinzioni sottili. Quello che è fondamentale è che non è un pazzo la guida di un camion, quello che ha fatto gli 84 morti, ma è un signore che pensa che Allah Akbar. Bisogna forse ricordarlo ai nostri fenomeni che continuano a dire che questi terroristi sono terroristi punto fanatici. No, sono terroristi islamici. Scalfari oggi fa l'ennesimo pezzo lungo quattro pagine, scherzo, tre quarti di pagina con la colonna in prima pagina, racconta la sua Turchia, parla di Datatürk, insomma parla dei suoi coetanei. Il punto vero, no, Datatürk è più vecchio di Scalfari perché parte dall'Ottocento, diciamo, la rivoluzione di Datatürk, laica di Datatürk. La cosa però interessante di Scalfari è che vi segnalo e che non è del tutto sbagliata, ed è interessante purtroppo nelle ultime dieci righe, non nelle prime dieci come mi sarei aspettato, però ci sta pure perché i temi sono molto grandi, quelli di politica estera e quindi non possono essere ridicolizzati con le nostre questioni di bottega. Beh, nelle ultime dieci righe Scalfari dice attenzione perché si sta diffondendo l'idea per cui si debba votare sì al referendum di Renzi, non già per la bontà delle riforme costituzionali che prevede, ma perché vogliamo aggiungere instabilità e instabilità, prima Brexit, poi inizia, poi la Turchia, poi vogliamo mettere anche l'Italia nell'instabilità, dice giustamente Scalfari, questa sarà una carta che si cercheranno i referendari e cioè quello della tenuta del governo in un momento in cui è necessaria la stabilità politica in Italia. Non è male questa considerazione, secondo me Scalfari qua ci prende e secondo me vedrete che nelle prossime settimane uno dei grandi motivi a favore del referendum non sarà più la parolina magica riduciamo le spese dello Stato, che è quella che ha voluto sempre dare fino ad ora Renzi per accarezzare il populismo delle piazze incazzate con le spese pubbliche, ma sarà quelle? Vogliamo veramente che l'Italia piombi nell'instabilità finanziaria e politica nel momento in cui sta succedendo un casino nel mondo? Beh, questa è un'interessante interpretazione di Scalfari, secondo me ci ha preso. Cairo conquista il Corriere della Sera, ne parlano tutti i giornali, l'ipotesi è che dal 48% che ha appena preso il Corriere della Sera possa arrivare addirittura al 62%, perché funziona così, erano due offerte, quella di Cairo e quella di Bonomi, Tronchetti, della Valle e Unipol e Mediobanca. Siccome uno ha vinto, cioè quella di Cairo, quelli che hanno aderito alla seconda offerta automaticamente gli cancellano l'offerta, quindi quelle azioni ritornano indietro ai vecchi possessori delle azioni che possono e hanno la chance di ridare le loro azioni all'offerta vincente di Cairo. Questo farebbe sì che Cairo otterrebbe una larga maggioranza del Corriere della Sera, questo farà sì che Cairo possa comandare in quell'azienda e questo oggi i giornali si chiedono come diventerà il Corriere della Sera. Filo, se dovesse essere fatto come la 7, certo non sarebbe un Corriere della Sera diciamo filo governativo, anzi basta vedere i programmi che fanno la 7 e quel gauche caviar che è tipica della 7 e che potrebbe, dice qualcuno, essere mantenuta anche sul Corriere della Sera. Dubito perché un Corriere ogni giornale ha la sua anima, ma comunque tante novità da luglio anche sul principale gruppo editoriale italiano di carta stampata. Ci vediamo domani, ciao!